Buongiorno a tutti giupini e giupino e benvenuti o ben ritrovati sul mio canale In questo video andremo a vedere insieme lo schema per realizzare la nostra dolce, piccola e tenera spolverina Lumiere è così arrivato a 100 like, non vorrete che spolverina sia da meno, mi raccomando spolliciate all'insù Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao! Questo è il risultato della prima parte di lavorazione del nostro schema A questo punto inseriamo gli occhietti per amigurumi Una volta inseriti gli occhietti per gli amigurumi possiamo continuare a seguire il nostro schema Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!